Oh, oh, ci stanno picchiando Ok, adesso corri intorno, non farti ammazzare Ok, ok, tanto ce l'ho con te Polizia! Ce l'ho con te, polizia! Polizia! Ah, l'altro ce l'ha con me! Si è infuogato vedendo l'amico Gira intorno Ok, sì, 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 lo sto facendo Polizia! Eh ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, questo giochiamo a GTA V E siamo tornati con un nuovissimo Si Può Fare Anche oggi avremo tantissime cose da provare Molte proposte da voi Quindi siamo prontissimi per iniziare Esattamente, io volevo dire che sono felicissimo Perché l'episodio speciale da 8 L'avete apprezzato troppo, troppissimo Ci avete suggerito un sacco di roba nei commenti Abbiamo screenshotato tanta roba Che vedrete nei prossimi episodi E volevo dire una cosa Mi sa, mi sa Che facciamo una settimana Un Si Può Fare Normale Una settimana quello da 8 Ok Ti piace? Ok, sì, ci sta, ci sta Perfetto Oggi vogliamo provare un po' di cose proposte da voi Compariranno ogni tanto gli screenshot delle cose che ci avete proposto E noi nel mentre le facciamo La prima che voglio provare a fare Ok? Ok E vedere se possiamo ammazzare il tizio che vende le armi Ok E rubargli tutto Allora, come lo ammazzeresti? Perché se entri non puoi né prenderlo a pugni né spararlo Quindi come faresti? Io ho un'idea Da fuori Però so che tu non ce l'hai E come fai? C'è la porta? Tiro una granata dentro E non si apre Tu la apri e la tiro Bravissima Ma chi è? Un tizio a caso Se ne vada, se no muore anche lei oggi Perché abbiamo lasciato la macchina in mezzo Allora Scusi Signora, ma la smette? Ma la finiva, cioè Scusami Sì, ma non l'hai uccisa e ti ha investito Evviva Guarda, ecco qua Perfetto C'è l'ho sparata in testa È un Highlander Lasciala, lasciala È andata via Vai Non fare disastri Ma dimmi te se ci devono interrompere queste NPC Allora, io sto disarmato così lui pensa che sia tutto a posto Ok Lascio la porta aperta No, devi aprire l'altra Ok, ok Ecco ci sono Ah Mi stavo puntando Ok Entra Uccidere si può uccidere Prechiuso E però dice torna più tardi e non possiamo rubare nulla Se non magari la sua arma Neanche la sua ci dà Ma che tirchio Quando si giocava GTA 3 e GTA 4 Se ricordo bene forse non potevi prendere tutte le armi Ma comunque potevi prendere almeno le sue No, non si può fare Peccato, peccato, peccato Allora, i prossimi che abbiamo Vediamo un pochettino quale scelgo Ci hanno proposto, dato che siamo morti bevendo Di provare a morire fumando E allora questo è mio Ok Questo è tutto mio Allora andiamo al Market Alvalo a comprarti le sigarette E vediamo se funziona Allora Eccoci qua al negozio Che bello Ricordiamo che nello scorso episodio sono morta bevendo alcolici Esatto Quindi cosa c'è di più bello di morire Fumando Fumando sigarette E di entrare armata in un negozio correndo Sbaglio sbagliato Come se la gente dovesse vederla come una cosa normale Sì, ma non ce l'avevo con voi Allora, me le vendi lo stesso? Siamo pronti? Comprate Vai Allora, ce li ho al massimo che sono precisamente 20 Direi che se ti fumi 20 sigarette tutta una volta Mori anche nella realtà 20 pacchetti addirittura Vai Dici, dici Eh, secondo me sì Vado Inizio Ok Guarda che bello Guarda che bello Ok Come ti senti? Per ora normale Bene La prima Come la ragazza che sta di notte a fumarsi una sigaretta Esatto Niente di troppo strano Niente di troppo eccessivo Ok Niente di troppo eccessivo La seconda Sto iniziando a perdere vita Ti dico già questo Ok Già con la seconda inizio a perdere vita Già effetti collaterali alla seconda sigaretta Bene, bene, bene Ne ho comprate anche altri 20 Ok Non si può morire Praticamente nel momento in cui sono arrivata a metà vita Ogni volta che fumo una sigaretta ne perdo un altro tantino Ma nello stesso momento lo recupero Quindi anche con questi 20 Rimango in una situazione costante di metà vita Quindi più di questo non scende perché la si recupera in automatico Perfetto Purtroppo non funziona Fai vedere tutte le mie cicche in terra Esatto Fai vedere cosa ho combinato Quante ne ho fumato Quanti i miei polmoni stanno male in questo momento Per questo si può fare Ma purtroppo non sono morta Purtroppo Ma che purtroppo? Dai le stesse ne felice Ci tenevo a morire Perché ho detto Sono morta con gli alcolici Perché con le sigarette no Per i prossimi ci servono elicotteri Quindi torniamo nel nostro armato aeroporto Per di più per uno ci servirà di nuovo L'elicottero che acchiappa Quindi io spero Che oggi sia una di quelle giornate fortunate Dove arrivi e lo trovi Non dirlo perché se lo dici automaticamente porti sfiga e non lo troviamo E uno non è fortunato E due non è fortunato E mi sa che il terzo manca direttamente Sì Bene 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 Comunque voglio dire una cosa Il più geniale di oggi lo sto lasciando per ultimo Perché secondo me Ah sì Appena l'ho letto quello ho pensato No è fantastico Ok ottimo Quindi sappi che ce n'è uno Super megaetico Allora prima di tutto mi chiami Lester Perché abbiamo la polizia Che sinceramente mi da fastidio Ho sempre la destra a chiamare Lester Lester tra un po' mi blocca il numero di telefono E non mi vuole più sentire Allora Ce lo chiamo ogni due minuti Stiamo andando a provare Ad atterrare con il paracadute Sopra la ruota panoramica Ma mi chiedi troppo Lo so Questa è troppa abilità Che io non penso di avere Non penso Anche secondo me Ok Ci dovrei dire ho fiducente Ma no non ne ho Io quando vado nel Quando mi lancio col paracadute Muori sempre a priori Anche se diventerai la terra Non riesco neanche a cadere dritta in terra Quindi figurati a prendere una ruota panoramica Secondo me puoi farcela Ok vado Metti il paracadute E inizia a mirare Ok ok sto mirando Con calma Usa la S Non andare di W Così piano piano ti aggiusti Ti sistemi Prenditi tutto il tempo del mondo Io ne metterò il mio vicino No va molto storto Lo puoi fare No non posso Lo puoi fare Non mi dire nulla Ce la posso fare Va bene Me lo sento Va bene va bene va bene Vai Vai Guardatela Dai dai ci sono Un altro giro ci sono Ci sono ci sono No Non andando Ti basta Va benissimo vado Vai 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 Aiuto Allora subito paracadute Non posso seguirti Che tristezza Ti guarderò dall'alto Dei cieli Nel mio elicottero Ok Stai andando drittissimo Miratissimo Aspetta Allora Quasi Non abbiamo detto che si doveva atterrare da vivi Sì dai È scontato Ci riprogramo Allora scendi un attimo Io faccio solo se li scendi vai Perché devo arrivarci senza la W Perché di W ci crepi No W è proprio capito In contralciamento è impossibile Quindi devo arrivarci più sobrio Esatto Proprio appoggiarmi come una piuma dorata Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo A fare anche questo Sono pronto No ormai mi sono puntata Ce la dobbiamo fare Sì perché è fattibile È fattibile Dobbiamo riuscirci Vai 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 Non possiamo dire che non si può fare solo per la nostra pagina Brava 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 Sì per la mia Allora Io infatti ci rinuncio Lascio tutto nelle tue mani Tutta tua la responsabilità Vado Vai 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 Ok mi ero mezzo incastrato Vai Ok prima di tutto si mira Dove è meglio questa angolatura La vedi molto meglio Io non la vedevo da lì Quindi sono andata all'inizio un po' alla cieca No sì 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 Infatti diciamo che ho anche questo vantaggio Non è solo Però ci sta Ci sta Colpa tua Devo scendere parecchio fin da subito E poi E poi gestirti tutto bene Sì difficile è capire l'inquadratura infatti Dai 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 No ma non ci credo Ma che sfiga C'è Ceri Sono nato per questa impresa Mi sono allenato duramente Ma non è vero Non l'avevo provato a fare Vai Prima La giusta inquadratura Ok Vai Concentratissima Ok Dai ce la fai Ci sono? Sì No 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 C'è Non è possibile Non è possibile Proprio quello dovevi prendere Perché queste volte ero leggermente troppo basso Quindi dovevo cercare di recuperare No dai Non panicare Non panicare Non panicare Ma salici In acqua Si può fare però Si può fare Si può fare Ci arrendiamo Cosa? Ci arrendiamo così Eh per ora si dai Non possiamo fare tutto il video Provare solo questo Ci sei andato comunque vicinissimo E ricordiamo che una volta Anche se sei morto Comunque ci sei atterrato Quindi si può fare Sì ma ho un dolore al cuore gigantesco Eh lo so pure io Però se facciamo 20 minuti di questo video Consolini ci ammazzano Cioè altro che morire sulla ruota panoramica Vengono a casa e ti uccidono Ok Allora scendi da quella specie di coso Andiamo a fare l'ultimo L'ultimo è super fantastico Ok Tipo che chiunque l'abbia scritto è un genio È proprio uno di quei consolini che secondo me ha acquisito la nostra malvagità E il nostro ingegno Sì probabile E l'ha scritto tutto in un solo commento A furia di guardarci è molto probabile che sia successo Allora l'idea è questa Praticamente noi chiamiamo la polizia con il telefono Ok Ok Scateniamo una rissa con i civili Semplicemente andando l'incontro Quindi sbattendoci contro Così non fai le stelline tu Arriva la polizia Quando ci sono i civili che ci vogliono appunto picchiare Che però in realtà è colpa nostra E vediamo cosa succede Teoricamente la polizia potrebbe arrestarli Ai civili? Esatto E non a noi? E beh perché noi non scateniamo la rissa Noi li facciamo solo arrabbiare Hai ragione Sì ci sta Vero? E' geniale Molto bella questa Molto 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 Secondo me questo funziona Anche perché Se funziona questo è bellissimo Però Gio Gio non ha funzionato nulla Allora iniziamo chiamando la polizia Era 9-1-1 Sì 9-1-1 9-1-1 Ok Chiamo Ok emergenze E dobbiamo selezionare polizia In questo modo la polizia viene qua A quel punto cerchiamo di scatenare una rissa Proprio quando stanno per arrivare Ok Ok come è stato per che stanno per arrivare Allora grazie a una patruglia si sta dirigendo verso la vostra posizione Perfetto Ok Allora bisogna coglierele addosso Sperare che uno di loro si arrabbi Tipo Eh scusi Così Sono fatti di pietra Ah ok Ah no ce l'ho fatta Uno è scappato Tutti arrabbi? Oh oh ci stanno picchiando Ok 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 adesso corri intorno Non farti ammazzare Ok ok Tanto ce l'ha con te Polizia Ce l'ha con te Polizia L'altro ce l'ha con me Si è infogato vedendo l'amico Gira intorno Ok sì 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 Lo sto facendo Polizia Polizia vi muove Ma quanto ci mettono Ecco lì Stanno arrivando Stanno arrivando Continuo a girare intorno Non dare un pugno C'è una risa importantissima qui Non dare pugni e non fare nulla Mi vuole picchiare Io sono solo una povera donzella Polizia Fate qualcosa Polizia 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 Faccia qualcosa Guardi mi sta picchiando Guardi glielo faccio vedere in diretta Guardi mi vuole dare un pugno Polizia Ma che fanno Polizia Aspetta aspetta E io non ho stelline Non ho stelline Guarda È il momento più bello di tutta la mia vita Guarda vuole infierire sul cadavere Guardalo Guardalo Io sono emozionato No io sai poi cosa ho fatto Ho visto che non mi stavano calcolando Però stavano guardando Ok Ho lasciato che il civile mi desse due pugni in faccia Al secondo pugno sono scese e l'hanno sparato Ma sai perché all'inizio non facevano nulla Perché dovevano arrivare esattamente nel punto E poi da lì si attivano Quindi secondo me erano semplicemente un po' rigidi Siamo persone terribili Abbiamo fatto morire due innocenti civili dopo averli provocati E li hanno sparato Comunque un po' un po' agitata la polizia di Los Santos Ti sembra che per una rissa tu spari in testa una persona No ma poi c'è Una rissa che in realtà abbiamo fatto partire noi spingendo le persone L'hanno neanche chiesto chi è iniziato Allora no Arrivati Io ripeto non mi son presa neanche mezza stellina Non hanno minimamente sospettato di me o di te Bellissimo Questo è stato uno dei si può fare più belli Perché mi ha dato un'emozione Te l'ho detto Sono emozionato Il mio cuore si è scaldato Perché questo era davvero epico Infatti te l'avevo detto che lasciavo l'ultimo Il più epico in assoluto Ci speravo davvero un sacco E ha davvero funzionato Nel mentre ti informo che quella patuglia Ok Ok Ha lasciato il partner qua Perché lui era ancora che guardava il corpo L'altra presa se ne è andata E l'ha abbandonato qui a camminare da solo E quindi lo sto un po' seguendo Perché ero curioso di vedere cosa fa Se torna in centrale Cosa fa secondo te Lo vorrei seguire per un'ora Però sinceramente Non è caso Non è caso Ma probabilmente sta in giro Ho capito Poi un posto ne torna in centrale Scarlati suoi Sai com'è Dice mi hanno abbandonato qua Ne approfitto per passeggiare al sole E una bella giornata Che vuoi che ti dica Che vuoi che ti dica E beh fa bene no Quindi direi di fermarci così Ringraziamo ancora tutti quelli Che ci hanno proposto delle idee Ne abbiamo tante altre Che utilizzeremo nei prossimi video Quindi continuate a consigliarcene Ragazzi non consigliate solo cose con l'elicottero Perché con gli elicotteri È tutto un po' più complicato Perché dobbiamo andare ad acchiapparli Poi magari li facciamo esplodere Quindi dobbiamo andare a prenderne altri No e poi è per non farle sempre monotema elicottero Esatto Altrimenti annoierebbe Magari qualcuno di tanto la mettiamo in mezzo Però non possiamo fare l'episodio Esattamente Quindi cercate di consigliarci tantissime cose da fare Noi continueremo a mettervi Durante il video appunto con lo screenshot Speriamo che sia piacevole per voi Comparire durante il video E vi informo che il poliziotto Ah ok stavi sparando Eh ci stava tamponando E il poliziotto che prima non aveva un motivo di vita Adesso ce l'ha con noi E vabbè Ciao Ora non c'è direttamente più Grazie ancora per l'aiuto Arrivederci Comunque ti volevo dire Che mentre facevamo l'outro Ok Questa signorina Ci ha tamponato E si è ammazzata da sola Giusto per Ma come puoi tamponare e ucciderti da solo Cioè fai proprio schifo nella vita Fai proprio schifo Almeno ammazzare l'altro Invece no Ti auto uccidi No è l'altro Cioè fai proprio schifo Perché se non ci si è Lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao